Tullo Vittorio Vittorio Voglio augurare a papà C'è una volta che manca Vittorio Ciao 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 Mi metto qua Mi metto qua Stai stanchi Ma state anche le scuole dietro Che classe siete? Che scuola siete? Valdassass 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 Tra il 4 novembre 2022 siamo in Villa Comunale e tra qualche istante inizierà la cerimonia delle forze armate, sono schierate tutte le associazioni da cui marinai, polizia di Stato, finanzieri, polizia penitenziaria e qui abbiamo anche gli alti vertici dell'amministrazione delle forze dell'ordine con cui anche gli assessori, qui una parte dell'esercito dei calabinieri di Trani, ci sono anche le scuole, la scuola Petronelli, le quarte e le quinte, una delegazione della scuola Baldassare e alcune delle scuole private della città di Trani. Buongiorno a tutti, diamo inizio alla cerimonia. L'amministrazione comunale della città di Trani unitamente alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, alle associazioni nazionali combattentistiche d'arma e alla cittadinanza tutta, celebrano questa mattina il giorno dell'unità nazionale delle forze armate. Si procede adesso alla cerimonia dell'alza bandiera. attenti, presenta, alza bandiera! biblioteca dell'amministrazione comunale della città di Trani SAosphere Anzionale Di Roma, di Dio l'Atreo Fratelli d'Italia, Italia semesta Che nel municipio si incinta la testa Non è la vittoria che porca l'avion Esclama di Roma e Dio l'Atreo Si chiamo Chaco Orte, si apronti all'amor Si apronti all'amor dell'Italia, Italia Si chiamo Chaco Orte, si apronti all'amor Si apronti all'amor dell'Italia, Italia Si! Vià al riposo Il Presidente dell'Unione Nazionale Ufficiale in Concello d'Italia Sezione di Trani, Generale Vincenzo Aveniente Dà lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione di questa giornata Celebriamo oggi il giorno dell'Unità Nazionale E in questa giornata rendiamo onore alle Forze Armate Che con la loro dedizione e il loro contributo Hanno consentito all'Italia di divenire uno Stato unico, libero e democratico Il 4 novembre ci richiama con rinnovata commuzione Le tante vite spezzate durante gli astri combattimenti della Prima Guerra Mondiale Un conflitto, provenienti da ogni angolo del Paese Affratellati sotto il tricolore Con coraggio ed eroismo portarono a compimento il sogno risorgimentale Ricongiungendo Trento e Trieste alla Nazione Alle donne e agli uomini anni Sono affidate ancora oggi la nostra sicurezza La salvaguardia delle nostre istituzioni Della pace, della libertà Operando, sul mandato del Parlamento e del Governo Anche in terre lontane Divaniate da terribili conflitti Per recare sotto le bandiere della comunità internazionale Stabilità e rispetto dei diritti umani La pace è un valore da coltivare e preservare E più che mai l'odierna aggressione scatenata Dalla Federazione Russa contro l'Ucraina Ci chiama alla responsabilità Di stetsponare concretamente le nostre convinzioni Sottolineando la necessità di presidiare Con i nostri alleati I principi su cui si ponda la cooperazione internazionale Soldati, marinai, avieri, carabinieri, finanzieri E personale civile della difesa La Repubblica vi è grata Per la vostra abnegazione e per l'impegno proposto Un particolare pensiero va a quanti sono impegnati all'estero Dall'Europa all'Africa centrale e settentrionale Dall'Asia al Medio Oriente e al Mediterraneo E a quanti operano sul territorio nazionale In concorso con le forze di polizia Con questi sentimenti rivolgo a voi tutti e alle vostre famiglie Un caloroso saluto Viva le forze armate Viva l'Italia Forza Tramme Vengono resi gli onori ai caduti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Prende ora la parola il sindaco della città di Trani, Amideo Bottaro. Grazie a tutti. Autorità civili, militari, religiose, associazioni combattentistiche, costoria, vissero in maniera comune, da nord a sud. 5 milioni di soldati italiani crearono senso di appartenenza per una nazione nella quale ogni famiglia aveva inviato almeno un militare al fronte. La lingua italiana divenne strumento di unione che consentiva la relazione tra soldati provenienti da contesti linguistici molto diversi fra loro. La guerra dette valore al ruolo delle donne che, con gli uomini impegnati al fronte, dovessero sostituirli in attività lavorative in fabbrica o in altri ambiti. La grande guerra ha dimostrato agli occhi del paese e del mondo cosa la devastazione e la frammentazione possano comportare. Un allontanamento dalla natura degli esseri umani che, come fermava Aristotele, sono animali sociali e che per sopravvivere hanno bisogno di una cooperazione fondata sulla reciprocità e sul rispetto della diversità. Occorre essere consapevoli del fatto che, per natura, noi non siamo fatti per vivere da soli e dentro di soli i nostri confini. In assenza di questa consapevolezza, cerimonie come quella odierna ci lascerebbero del tutto indifferenti. E forse è proprio questa indifferenza che non ci fa vedere i tanti genocidi, i delitti efferrati, le guerre di supremazia che si susseguono nel nostro tempo. Dobbiamo impegnarci a non essere presenti, agire con coerenza, ognuno per la sua parte, per costruire un futuro di pace, a cominciare dalle nostre scuole e da un modello di società più attento alla giustizia sociale, allo sviluppo occupazionale ed economico, che deve essere inclusivo e foriero di benefici reali per tutti. Dobbiamo trovare soluzioni concrete e immediate. Dall'altro, un contesto mondiale drammatico, in cui essere cittadini italiani significa fare i conti con l'immigrazione, l'accoglienza, la collaborazione, la solidarietà e il rispetto reciproco. Riuscire a ricostruire una società in cui, accanto al miglioramento delle condizioni economiche delle nostre famiglie, avvengano anche l'integrazione e l'accoglienza, senza immaginazione, senza discriminazione di razza, di sesso, di colore, di pelle, costituisce uno degli obiettivi più importanti che si deve dare il nostro Paese. Dobbiamo impergnarci per affermare questa idea di un'attività che vi è dato anche a voi ragazzi, destinatari di un messaggio che parla al futuro. L'Italia ha bisogno delle vostre energie, delle vostre idee, dei vostri sogni, del vostro entusiasmo. L'epoca della crisi permanente, in cui siamo ormai piombati, registra un'insufferenza diffusa. Non devono parlare tanto al cuore quanto alla ragione. Bisogna intervenire concretamente con strumenti per innalzare subito i salari, per stroncare il lavoro irregolare e precario, per inserire in società i più poveri e i più fragili, per eliminare il partaglio involontario dalle donne, per dare diritti e voce a tutti, indipendentemente da origini etniche e da origini religiose. La politica, bocciata sonoramente alle ultime elezioni, considerate che il partito del non voto è maggioranza in Italia, deve recitare il mia coppa e impegnarsi per riacquistare la fiducia della gente. Il periodo che stiamo vivendo è certamente il più difficile, se non forse il più difficile del dopoguerra. Tuttavia, se siamo stati capaci di ripartire dopo due guerre mondiali che hanno devastato il nostro paese, possiamo riuscirci anche adesso, anche se la guerra è diversa da quella di allora, perché oggi il nemico si chiama egoismo ed indifferenza. In questo compito di ricostruzione del nostro sistema democratico, le donne e gli uomini in divisa svolgono un compito ineguagliabile per la tenuta e la futorezza del paese. E' solo un esempio di grande abnegazione e responsabilità, un esempio che noi possiamo soltanto ammirare. A loro va il mio e il nostro sostegno e la nostra riconoscenza per il lavoro che fanno e per l'impegno e la dedizione di cui danno prova ogni giorno. Ragazzi, chiudo rivolgendomi a voi. Democrazia e libertà sono valori che vanno difesi e tutelati ogni giorno, perché mai conquistati definitivamente. Siamo responsabili ed ambasciatori quotidiani della pace, al pari dei nostri uomini e delle nostre donne in divisa, anche e soprattutto interpretando nelle nostre comunità locali il valore dell'educazione civica e della cittadinanza attiva. Viva l'Italia, viva le Forze Armate, viva la Repubblica! La locuzione del sindaco conclude la cerimonia del giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Si ringraziano le Forze Armate, i Corpi Armati dello Stato, le autorità civile e religiose, le associazioni nastolaghi e combattentistiche d'arma e tutti i cittadini che hanno partecipato a questa cerimonia. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Tutti i famigli vicino qua! Grazie a tutti! La nostra vota, il nostro entusiasmo, veramente! Ciao, ciao, grazie! Ciao ragazzi, grazie, grazie per essere venuti. Tutti insieme, con il sindaco, con il sindaco, prego siamo dietro, tutti con il sindaco, dai. Anche le maestre, anche le maestre, anche Pinatura, che partecipa a Zegna. Grazie a tutti. Ventolate le bandiere. Via le bandiere, celebrate. Grazie. 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 Grazie.